Presidente Maggi, quanto è importante la formazione e l'educazione continua in medicina per i professionisti sanitari nel corso di una pandemia e nel post pandemia? È un fatto fondamentale per il medico. Io dico sempre che il medico inizia a studiare e non finisce più di studiare e di aggiornarsi. È una professione in cui bisogna sempre essere pronti, quindi essere aggiornati nel vero senso della parola. Ovviamente adesso c'è una situazione importante che riguarda appunto il fatto di dover avere quei crediti riformativi che sono necessari nell'arco di quello che è l'ECM. Bisogna che i colleghi capiscano che non è soltanto un vezzo. In Italia c'è questo obbligo, è un obbligo che è fondamentale per esercitare la professione. Voglio ricordare addirittura che in alcuni altri paesi, faccio un esempio il Canada, ogni tre anni gli ordini professionali chiamano i medici e gli danno nuovamente l'abilitazione, cioè quindi praticamente devono dimostrare veramente di essere sempre in una situazione di aggiornamento. In Italia abbiamo questa possibilità di fare l'aggiornamento professionale anche, non soltanto in presenza, il Covid ci ha insegnato e ci ha creato le condizioni per cui abbiamo dovuto in qualche modo aggiornarsi anche a distanza tramite i FAD, però gli strumenti ci sono, bisogna utilizzarli tutti quanti. Penso che l'offerta formativa è abbastanza ampia oggi come oggi per quanto riguarda i colleghi e soltanto ho la volontà o meno di farlo. Ecco Presidente, si avvicina alla scadenza del triannio formativo. Medici e operatori sanitari non in regola dovranno rendere conto agli ordini di appartenenza che procederanno con controlli e poi con sanzioni. Come intendete procedere? Com'è la situazione? A che punto siamo? Adesso attendiamo da COGEAPS quelli che sono i dati che ci servono per sapere esattamente e con correttezza quali sono i colleghi che non si trovano in regola, anche se noi abbiamo già dei dati in qualche modo che ci fanno vedere quali sono i colleghi che hanno meno ottemperato. Il problema è che molti di questi colleghi purtroppo si trovano ormai fuori alla possibilità di poter recuperare e questo è un dato purtroppo incontrovertibile per cui noi agiremo di conseguenza, richiameremo e cercheremo un attimo di vedere quali sono le azioni da fare. La legge prevede che noi dobbiamo in qualche modo mettere in modo un'azione di tipo disciplinare in questo senso. Si deve prendere atto di quello, chi invece ancora potrebbe essere in regola ovviamente di darsi da fare per non trovarsi in questo tipo di situazione. Noi chiaramente agiremo rispetto a quelle che sono le norme che ci disciplinano. Quindi il consiglio che do a tutti i colleghi è appunto pensateci prima e chiaramente aggiornatevi il prima possibile. Cercate di essere in regola con quelle che sono le norme per quanto riguarda la formazione continua. Secondo un emendamento al decreto PNRR i medici e gli operatori sanitari che non sono in regola con almeno il 70% del credito del triennio non possono essere coperti da RC professionale. Questo è un bel problema? È un grosso problema. Un problema che già era assistente anche prima. Nel senso che quando c'era un'azione di richiesta di risarcimento i giudici andavano comunque a chiedere se i crediti riformativi erano stati fatti. Quindi a parte la parte assicurativa che crea chiaramente un problema economico per chi poi è accusato e quindi deve in qualche modo risarcire e non è più coperto da assicurazione. Ma anche prima i giudici andavano a verificare se il medico in qualche modo si era aggiornato o meno. Quindi questa è la situazione e bisogna appunto trovare delle soluzioni. Noi cercheremo di parlare, stiamo già discutendo in ambito generale per poter trovare una soluzione perché è chiaro che oggi come oggi è importante avere una copertura assicurativa perché il cittadino ha diritto di essere esercito nel momento in cui ovviamente subisce un danno ma allo stesso momento il professionista deve poter lavorare in massima tranquillità e quindi sapere che comunque sia o che ci fosse una possibile situazione di malpractice oppure di una piccola disavventura che può accreditare a tutti quanti sia coperto e sia quindi tranquillo e che possa fare il suo lavoro nella maniera più chiara e semplice possibile.